È con noi Liam Caruana, benvenuto Liam. Tu lo sai che oggi nel tuo piccolo hai scritto la storia del tennis perché hai vinto la prima partita con il regolamento nuovo, quindi che sensazioni hai avuto in campo? Sì, è stata una partita divertente perché le regole nuove hanno reso la partita veloce e pure intensa, ma con le nuove regole mi sono concentrato e ho fatto del mio meglio e ho giocato bene. Hai fatto una gran partita, ti sei adattato a un campo velocissimo che non si trova molto spesso in giro, tra l'altro con alcuni colpi come alcune risposte sensazionali. Sì, io penso che la superficie mi ha fatto concentrare anche di più perché ero nervoso e attento perché la superficie non è una che gioco spesso, ma questo mi ha solo fatto giocare, penso, meglio e mi ha aiutato molto al servizio oggi. Forse la regola più difficile da accettare ai propri giocatori è il non letto al servizio. Hai anche subito un paio di ace con la palla che ha proprio morta nel tuo campo. Come si fa ad adattarsi così rapidamente a una regola tanto rivoluzionaria? Non penso che c'è una strategia, devi solo metterti in testa che quando colpisce il let devi correre, ma io ho giocato nel college e si gioca a let, io avevo già quella regola in mente e non penso che era bruttissima. Comunque siamo alle battute conclusive del 2017, un anno per te importante. Cosa prevedi per domani, per il prosieguo di queste next gen? Sì, io sono qua per giocare un match alla volta e il prossimo match come tutti saranno molto difficile, ma ho la mia strategia e provo a seguire il mio piano. Grazie Liam in bocca al lupo. Grazie.